e abbiamo cocrodile e zazu che cadono i portali Doordash Doordash Uh c'è il martello Una bella cucciata per arrivare subito in fondo Dove sono? Io seconda fila Anch'io Perfetto Ma vaffanculo Tutto è chiuse Sono stramega ultimo Levatevi Vabbè Un ultimissimo Oh anch'io Mi sono fatto dare il cuccio dal martello Ho superato non so quanta gente La prima andata Cosa uscirà? Ah non lo so Dai Skyline stumble Questo è bellino Oddio Oddio Ma non l'ho mai fatto No l'hai fatto Quello che c'è Il flipper centrale O se no ci sono i salti laterali Per arrivare in cima L'hai già fatto Guarda L'immagine Ah si ok Dai su Dai 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 Vediamo quanti geni ci sono qua che schiacciano i bottoni a caso Ok sono seconda fila Vai Vai E non mi fatemi cadere però Sono caduta Non fatemi cadere Ok 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 Ma vaffanculo Quella cosa di merda Vai 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 Ma che due maroni Sti cacchieri Eh Cazzo uno è già arrivato No Ma chi è che ha schiacciato il botone Che non capisce Proprio una sega Ma Schiacciano i bottoni In continuazione Otto Nove E io sono il dieci Non so se ce la faccio Eh Te ne mancano Diciassette Sedici Ne mancano Tredici Salta Ah niente Yes Qualificata Anche il due è andato Loro sono qua che provano con il flipper Ma non ti butta sul flipper Cioè io non ho ancora capito se Effettivamente uno ce la fa col flipper Cosa abbiamo adesso Dobbiamo rimanere sulla piattaforma Cannoni sparano Deve rimanere sulla spettaforma Ah ok Stato a sera Quello dell'overboard No Quello che prima l'ho fatto È Io devo Io devo Abbracciare tre persone Sono qua Sono qua Abbracciami 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 Ok Ok Ho abbracciato un po' di gente a caso A me A me Non mi abbracci Ah dove sei Non so dove sei tu Non sei vestito Ah il coccodrino Merda Quasi caduto Forza a fare il deficiente Ho preso il profeo Io sono volato giù Io no Io no Ah io si Ma ha beccato la stella Quando mi sfiora la stella Io volo via Niente La stella La stella Che due maroni Fai il tipo per me Che sicuramente verrà eliminato adesso Che due palle oh Nei giochi più stupidi Vengo buttato via Sta andando male Oddio Questo è odioso Sì Parecchio Ma dai Ma dai Cioè pensa che io vedevo te che stavi salendo Invece tu è ricaduta Eh lo deve C'è da avvicinarlo No no Conveniva star lì Ma quello è basso Quello è basso No ce l'ha fatta quello lì Riprova Ah no ce l'hai fatta Eh Questo qua è veramente odioso Niente Non ce l'ho fatta Niente Usciamo Yes Facciamo un'altra partita Ok No niente Quello degli abbracci Non me l'ha dato Mamma mia Devo fare 500 60 600 punti Devo fare E l'hai già completato Tutte Sì Sì Eh io no Che io non devo prendere 5 giocatori Devo Fare un abbraccio Quindi i due giocatori Si devono abbracciare La vicenda È 2 3 9 10 11 12 12 13 12 14 14 14 14 14 un roll on il rotolone che gira dobbiamo arrivare in fondo al rotolone wow wow bellissimo dimmi che sono davanti ti prego dietro ultimo io sono davanti sono davanti e sono già caduta ovviamente perché c'è la gente che mi tolta addosso ed è così la situation devati becille c'è uno che non si spostava e mi stava facendo cadere e alla fine sono caduto perché il somaro ma oh alzati eh non do vuoi no no non cadere non cadere merda 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 uno è già arrivato a destinazione ma non sono in tanti già alla fine ma io non ci capisco niente qua perché vengono davanti roveti sottofatta nel buco ma infatti a me per colpa di uno che non andava avanti io ero incastrato e mi ha fatto cadere la gara a me per colpa di uno ultimo strano chiama le 7 meno un quarto io rimango sempre incastrato dopo lì dai ma no chi è che schiaccia il bottone così parate via no questo spinge indietro questo qua che spinge avanti mamma mia mamma mia ah dai recuperato la bacca troia ecco dai dai ma io non lo so nessuno uno due quattro dai che ce la fai sette no dieci undicesimo sei arrivato tipo no è troppo divertente vedere gli altri cosa fai ehi ciao top 50% sono arrivato nooo ho perso qui prima erano tutte banane mi han beccato tutte cioè perché vanno a caso non è una palla che rotola dritta sta qua boh sempre tutte da me qua dovremmo arrivare tipo in undici devi stare un po' di lato ma sì perché eviti anche il tronco il problema è che già se parti ultimo sei indietro gli altri no in 16 dobbiamo arrivare occhio occhio come fa uno a essere là in fondo adesso non lo so ma vai a fare il culo cioè sono ancora all'inizio e uno è già arrivato in fondo ma dai ma vai a fare in culo andate è un livello di merda cioè io voglio sapere il primo come ha fatto ad essere là in fondo in due secondi era già là in fondo come cazzo ha fatto ma dopo riguardo riguardo alla registrazione voglio dire come cazzo faceva essere già là in fondo 4 bagagli e ottengo una corona e devo ah devo arrivare tra i primi i primi per guadagnare la a proposito è vero negozietto vieni che io lo faccio qua tu non ce l'hai tu hai altre cose guarda cosa c'ho la candela la candela si ce l'ho anch'io va bene direi che non non prendo niente la voglio la voglio la candela dai ce la mettiamo tutte e due però non so cos'è voglio vedere cos'è il robo master vabbè dai lo prendo cuoricini come se avessi le mutande o le mutande gialle dai e sotto sotto io metto le scarpe disco buono perfetto io sono sexy da far paura guardami sono le mutande i cuoricini devo abbracciare tre somari e devo riuscire ad arrivare tra i primi guardiamo 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 ciao no dai su che tobali due ore per population ma anche qui la morte no perché nel senso che beh allora un in prima fine e sono io in terza ah io sono in prima però qui ho paura che c'è un'altra candela ecco sapevo ah ma è più rapido se ti butti giù è più rapido perché guarda tutti quelli che erano giù sono già arrivati quindi adesso abbiamo scoperto che qua per far prima devi buttarti giù ma levatevi dal cazzo no 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 yes si lì ti butti giù ce l'ha scivolata e quindi sei più rapido abbiamo scoperto una nuova cosa è rimasti solo io te come candele un'altra candela ha vinto no solo io te paparaparaparapam onde è che tornerà quello del pallone da fare gol era divertente perché c'è da arrivare pari e tipo 8 contro 8 quindi in 16 se non sbaglio ancora questa sono quei pulsanti ah stavolta non ci sono i martelli ah ah quindi vabbè ma tanto non ti buttano fino sotto io l'ho provato io l'ho provato eh lo devi prendere bene io ho visto gente che è arrivata prima grazie a quello fa due ore per alzarsi no no ma io ho saltato no 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 e che cazzo porca puttana niente niente ma niente io ho perso perché sto perdendo un sacco di tempo dai di nuovo di nuovo ma così lì quando ci sbatti contro ti fanno ti buttano giù dai 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 è arrivato uno adesso no 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 ci riesco dove sono ancora sei decimo ah niente è caduto un sacco di volte vaffanculo eliminati 14 13 1 abbandonato quello da arrivare in cima alla montagna frizzi peak fa che si sente io questo non riesco mai di andare avanti non riesco mai di andare avanti ma vaffanculo oh che banda di mongoli come è fatta? oh imbecille che stava totenendo eh somaro che cosa trattini che comunque ci stava quello lì tengo d'occhio chi ha 25 a bidel ciucculo così ti faccio il problema è che il gioco permette di farlo quindi non tipo no la coda no la coda no la coda no no tocca e ce l'ho già a meno allora io vado da dietro ci arriva qualcuno ma come cavolo ha fatto che ero un chilometro distante non lo so becille ma come hai fatto anche tu ma io non ero un chilometro distante fatti spazzare via ma Quello, quello, quello Quello, quello, quello Ma, ma l'ho preso Si, si, vai, scappa, scappa, scappa Ma come cavolo fanno rubarmela così Ma vaffanculo Ma me la prendono da un metro di distanza Ma come fanno E io che li sono a due centimetri Non gliela prendo Ma va a cagare Ah, che gioco di merda Ma mi fai incazzare Perché, cioè A un metro di distanza Loro me la prendono Ma io a due centimetri non riesco Ah Dai, dai, un metro uguale a te Oh, rosa A te che ho beccato un colore No, vabbè, guarda Oh, vabbè, così Ok, ok Che stress Mi ha vincere Eh, eh, una parola Dai, sono anche arrivato in finale ancora No, vabbè No, vabbè, guarda Mmm 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 Che vento? Che vento? l'aria che ti porta da uno ma salta imbecillo vedi questo qua va uno ce l'ho fatta anche l'altro va bene ok ma andate a fare il culo mi hanno fatto cadere ma guarda ancora ma perché loro spingono me e io non riesco a spingere loro che è sta cosa della fisica loro spingono me ma io non spingo loro vabbè sono passato anch'io no sono passato nel senso che ho superato i rotoloni rotoloni regina che non finiscono mai ma è due volte in quel punto lì che gli altri mi spingevano e cadevo nel buco ma perché loro spingono me io non posso spingere loro non si buttavano mica loro cioè questo è la cosa che mi stavo sui maroni oh dai non arrivo neanche più primo nelle gare no adesso è collegata gente forte secondo me è che c'è da beccare gli orari in cui giocano persone scherze grazie esatto cosa abbiamo ah un'altra gara questa è bellina dai carina però è quella dove ci sono le eliche dopo ci sono i così orizzontali anche qua va a culo perché all'inizio lo becchi bene no la seconda seconda eh però siamo dalla parte sbagliata io mi faccio colpire mi è andata male ma va 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 che la gente è già arrivata in fondo guardali ah io ero arrivata là avanti poi lo so passiamo a tirarsi su sto cazzo di cose ecco lo sapevo io mi sono fermato perché sapevo che mi avrebbe colpito dai un bel cuccio grazie dai ci provo ah quasi vediamo vediamo ci riprovo non mi ha fatto cadea niente niente vado di qua si anch'io basta perché sennò perdo ma fa ma fa ma ma io ho saltato però ho già arrivato in 15 nooo vabbè sono già qua ci sto per un pelo 27esimo sei fuori no no c'è già l'indeficiente che è entrato c'era già uno lì che si divertì ah è entrato perché stavano arrivando gli altri sono arrivato a pelo 27 su 30 sono arrivato però non è sempre uguale questo percorso in base al livello in cui lo fai cambiano le difficoltà no ma basta ma sempre questo ad oggi ma porca anch'io prima quando non mi sono arrivato l'ho fatto ma esce sempre questo io devo capire se rimbalzano sui cosi laterali per arrivare così in alto rapidamente ma quanti cannoni ci sono guarda che molti saltano non ho fatto non beccarti no uno è già là che fa il deficiente ha fatto anche l'animazione ha fatto no ma perché alla fine sempre mi fate cadere porca sempre alla fine mi fanno cadere vaffanculo sempre alla fine mi fanno cadere riescono sempre a farmi cadere che due coglioni ma non serve a niente perché rallenti anche tu rallenti mentre lo trattieni facca puttana che gara di merda ti senti invece che due secondi è già là in fondo non lo so come fa userei tu vabbè sta facendo la live dopo lo riguardo eccolo là io sono andato giù era già arrivato oltre la metà del percorso nella salita io come cazzo faceva essere già là non ne ho idea non ne ho idea no Vai Anche qui Fatemi cadere come sempre Ecco Anche terzo Ah, non c'è Me detengo No, non c'è Non c'è Il ca Non c'è Non c'è Non c'è Ma che due maroni, oh! Sono notato a salvarmi, ma va bene. Ok, qua la trovi. Eh sì, ciao, buonanotte. Mi cadono addosso, mi fanno perdere tempo. Ma guarda, è stata tutta così anche a me. Tutti addosso ce li avevo. Sono caduto quattro volte. Non ce l'ho neanche fatta. Vabbè dai, esci e cominciano a tragare intanto. Inutile che stai lì ad aspettare. Anzi, forse siamo più fortunati. Ah, infatti. È arrivata in finale, prima. Ancora. Che palle. Ah no, questa è la sopravvivenza, questa. Eh, scritto survival. Che brutto lavoro, anche qua. E c'è anche i cannoni. E hai tanti auguri. Ah, io invece c'ho... Ah, cosa faccio? C'è stato. Non è male. Guarda che cadono addosso e mi fanno cadere, questi bastardi. Ancora. Ancora. Ancora, perché ho fatto il cazzo. Uff. Mi ha buttato giù uno. La papera. Mi ha buttato giù. Qua c'è l'aria, c'è il vento, cazzo. Si è molto scurrile oggi. Oh, no. Non so come cacchio ho fatto, ma ce l'ho fatta. Hai imparato a tuffarti. No, no. Non so come cacchio ho fatto. E a volte anche se non c'è tuffarmi. Ma se lo faccio, se lo faccio. Mamma mia, è saltato un quarto d'ora prima, è saltato. Ma è vero. Non so qua, non so qua. Quel cugnone di merda. Perché non è aspettato ancora? Ma mi è venuto adesso quello, eh. Sì, ma è saltato malissimo e è presto. Lui invece era dietro, ha preso lo slancio. Ah, infatti, non so come lui ci sia riuscito e io, no? Perché lui era in corsa. Tu era in corsa. Tu era in corsa. Se corri, salti più avanti. Ecco, ultimo. Che muccia da. Non ci metto troppo a caricare qua. Ecco. Ha anche spinto fuori. Andate a fare in culo. Dai, alzati. Ma a me è sta candela che porta sfiga. Cambiala. Ma guarda. Oh. Io non so, non so se ce la faccio. Oh. Ce l'ho fatta. Se te sei caduta perché è arrivato uno contro. E' ora che si alza, ci dia qua. Mamma mia. Mi ha fatto un pelo. Perché non stai tra le due pale? Perché non ti becca mai? Va bene, va bene. Eh. Ma è che cazzo però. Ma è subito di dato. Ma è sempre il primo tentativo. Ma è troppo. No, è troppo. Non vai più forte. Così. Dove tuffarti. Se no devi saltare dove è il punto più stretto Stuffati Vabbè sei comunque passata Adesso qua mi butto giù Che palle Non mi tuffo mai Quella Infatti Sì ma la faccio in tempo No ero il primo di tutti E sono l'unico che non è passato Ma vaffanculo Gioco di merda Sì perché un gioco di merda Ero il primo e l'unico che non è passato Sono io Non so come cazzo è successo Ma dai No ma dai Non è una roba impressionante Ero il primo L'unico che non è riuscito a passare il buco Sono io Ed ero il primo Tutti gli altri sono passati Vorrei sapere come cavolo è possibile No ma basta Ma sempre gli stessi Ma sempre gli stessi oggi Ero il primo Ma sempre gli stessi oggi Ma sempre gli stessi oggi Ma no ma perché Ma chi mi ha fatto saltare da sotto Non è stato a cagare Adesso un passato quarto Non si può impostare come causa automatica Ho passato Nooo Quello del percorso da indovinare Quello delle piastrelle che vanno giù Mi stessi oggi è stato a portare da sotto E' un po' di acquistare da sotto E' un po' di acquistare da sotto E' un po' di acquistare da sotto Sì, è vero. ne ho buttato giù uno che merda eh beh mi son vendicato la finale questa hexagone nooo sono arrivato terzo è caduto l'altro c'è roba che dovevo durare 3 4 secondi in più ma no quello lì chissà dove era quello niente sono arrivato in finale magge perse bene basta